Questa mattina presidio di mobilitazione al borgo di Montegrosso ad Andria è infatti a rischio la chiusura del bivio di accesso al borgo presente sulla SP2. I lavori stanno per essere completati e per la chiusura del cantiere è necessario eliminare la rotatoria che fino ad oggi ha consentito l'accesso diretto alla strada per il borgo. Questa eliminazione di fatto decreterebbe l'isolamento della comunità. Una storia che va avanti da più di dieci anni e stamane dunque protesta dei residenti e dei titolari delle attività produttive, delle aziende agricole e dei artigiane che operano a Montegrosso. Non si accettano contro proposte, questo è il leitmotiv. Intervenuto anche il presidente della provincia Abat, Bernardo Lodispoto. Noi abbiamo detto con chiarezza che il bivio di Montegrosso non si chiude. Quali sono le soluzioni? Ne abbiamo fatte tante. Avevamo accettato l'ultima, quella del ponte di Minervino, con un rientro a doppia corsia a destra e a sinistra e purtroppo su questo non si è lavorato per niente. C'era stato detto che c'era un finanziamento per questo, ma questo finanziamento pare che sia scomparso. Ora chiediamo fortemente che la chiusura della provinciale per Montegrosso non ci sarà. Quindi la blocchiamo da oggi in maniera tale che vogliamo sapere quali sono le decisioni. Ci ha impiegato 30 anni a mettere su un'azienda di sacrifici e di duro lavoro e ora i nostri amministratori invece che tutelarci ci vogliono spazzar via le nostre imprese. Chiudendo un bivio che è una uscita che sta qui da 100 anni. Dopo tante promesse, tre anni di promesse ci hanno solamente preso in giro e oggi volevano fare un blitz e chiuderci completamente e definitivamente. È assurdo chiuderci definitivamente. Non abbiamo altra soluzione che chiudere le nostre attività, chiudere le nostre case e azzerare 100 anni di storia di una borgata, di una strada, di attività produttive. Sono arrabbiato molto grave questa situazione. Non si può pensare che un borgo venga murato, chiuso, già nella progettazione che non era stato previsto. Io ho dato tutta la mia disponibilità per finire la complanare. Già da 4-5 anni la prefettura non mi ha mai risposto. Quindi si poteva benissimo fare con la complanare e quindi sostituire a questo disastro che vogliono fare oggi. Chiudendoci, chiudono le attività, chiudono il borgo, chiudono tutto quello che c'è qui in giro. Quindi sarebbe veramente grave pensare a una cosa del genere. Stiamo cercando una soluzione che vede ancora una volta mettere soldi di cofinanziamento da parte della provincia. Ancora una volta. Se troviamo questi soldi che stiamo già verificando, la regione ci dovrebbe concedere una proroga per quanto riguarda la eliminazione, quindi il collaudo. In questo momento, se ci sono queste condizioni, viene regolarizzato tutto. Questo incontro ci sarà martedì presso la prefettura con il coinvolgimento anche della regione.